Dopo tre mesi di chiusura parziale, l'autorità giudiziaria d'Avellino ha concesso la riapertura del casello di Roseto degli Abruzzi, provvedendo al dissequestro delle barriere di sicurezza sui viadotti di Colonnella e sulla statale 150 del Vomano lungo l'autostrada 14. Il provvedimento temporaneo consentirà l'inizio dei lavori di cantierizzazione per la sostituzione delle barriere di sicurezza, che seguiranno le modalità indicate dagli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La chiusura del casello ha creato diversi disagi, con file chilometriche da parte dei tir all'uscita di Pescara Nord, a causa dell'interdizione ai mezzi pesanti sulla tratta Pescara Nord a Trepineto. Per quanto riguarda il viadotto statale 150 del Vomano, Autostrade per l'Italia conclude dicendo che la configurazione di cantiere consentirà la riapertura dello svincolo di Roseto direzione Nord entro martedì 3 marzo, mentre entro mercoledì verrà garantito il pieno accesso a tutti i rami dello svincolo. Inoltre, per chi proviene da Ancona, si consiglia di uscire al casello di Teramo Giulianova e, tramite la statale 80 e la statale 16, raggiungere Roseto.